In accordo a quello che noi capiamo, questa è una questione abbastanza semplice. Io devo vedere la vera meta di cui ci parlano i cabalisti, perché io, per conto mio, non posso vederlo, non lo conosco. Loro mi dicono che la legge generale ama il tuo prossimo come te stesso e il raggiungimento di questa meta è attraverso l'amore degli altri. E a partire da qui, uno arriva all'amore del creatore. E per fare questo, e la persona non può farlo, la persona ha bisogno dell'aiuto dell'alto. E l'aiuto dell'alto, la persona può averlo solo se chiede. E io posso chiedere solamente se, non è che sto in una richiesta vuota, ma veramente è una richiesta che arriva dal fondo del cuore. E quindi io devo tentare di unirmi con gli altri per portare a termine azioni, che è come se fosse che io li amassi, in qualche misura impossibile. E quindi vedere attraverso di tutto come non sono capaci di portare a termine questo. Però non disperare, ma rendermi conto che così è organizzato questo dall'alto, che il creatore mi sta aiutando, che non sono capaci di portare a termine un'azione di azione. Perché se io completo un'azione meccanica di azione, allora se mi accontentassi con questo sarebbe un rifiuto dall'alto. Ma l'aiuto dall'alto è specificamente quando il creatore mi permette di rendermi conto che sono incapace. E non importa quanti tentativi, ma mi rendo conto sempre di più che non sono capace, fino a che tutte queste azioni mie, nel cercare di essere vicino agli amici, cercare di essere vicino al gruppo, ogni volta di più, mi portano a una sensazione sempre più amara, fino a che io esco con una preghiera al creatore, che mi aiuti, che mi aiuti a cosa? Ad arrivare alla connessione, nient'altro. Perché io so che c'è una legge che dice che a partire dall'amore alla persona arriva l'amore al creatore. Non posso semplicemente saltare qui, perché io non so cos'è l'amore al creatore. Solamente dopo arrivare all'amore agli amici posso scoprire dentro di questo cos'è questo amore al creatore. Prima di questo sto semplicemente in una illusione, sto sbagliando. E quindi nella misura che io sto lavorando nell'amore per gli amici, nel gruppo, nella connessione, allora a partire da questo un po' alla volta comincio a rendermi conto e capisco sempre più che l'amore al creatore non è per niente come io mi immaginavo prima di iniziare a lavorare nel gruppo. E che tutta la scala e i gradi che stiamo costruendo nel raggiungimento dell'amore agli altri, tutto questo è perché a partire da qui possiamo capire cos'è l'amore al creatore. perché indipendentemente dall'amore al creatore, noi non abbiamo niente di questo, però invece dell'amore alle persone abbiamo l'odio e quindi abbiamo qui qualcosa che esiste, qualcosa che in qualche maniera, in maniera diretta o opposta, esiste dentro di me, un'attitudine verso gli amici che sia negativa o positiva, attrazione, rifiuto, quanto vale la pena, quanto non vale la pena, quanto il nostro ego è coinvolto, quanto no, però rispetto al creatore non ho niente, non ho niente né sensazione, né comprensione, né relazione. E pertanto fino a che io termini il lavoro nell'amore degli amici, allora non ho nessuna forma, nessuna maniera di raggiungere l'amore del creatore, nemmeno capisco cos'è, non c'è amore, non c'è odio. E pertanto tutto il nostro lavoro, che noi tentiamo e tentiamo e tentiamo di arrivare all'amore, agli amici e ci rendiamo conto che non sono capace di farlo e mi rivolgo al creatore, mi rendo conto che ne ho bisogno e quindi io ho una mancanza, un chissaron e che questo si risveglia dentro di me e mi rendo conto dove lui sta lavorando e dove il suo lavoro entra nel mio lavoro e quanto possiamo essere soci in questo lavoro. E allora la mia richiesta, la mia preghiera si organizza, si dirige in una maniera chiara, è già una forma speciale dove io entro e chiedo al creatore che venga e mi aiuti, non è come un bambino che semplicemente sta piangendo e che è lì, con dei pezzi nelle sue mani e non sa cosa fare, ma comunque sta cercando di montare qualcosa e quindi dice forse così, forse colà e si rivolge all'adulto e gli chiede e quindi si rende conto dove può essere, ed è lì dove la mente, l'emozione dell'adulto deve arrivare. E' per questo che è sempre il grande superiore, che si chiama il grado superiore nuovo, così è come si rivela il creatore ogni volta e chiediamo aiuto e aggiunge un po' più di connessione, aggiunge un po' più di connessione in una forma specifica nel gruppo e questo si chiama il lavoro del creatore, però arriva per completare la mia mancanza, che io mi rendo conto che non posso, mi rendo conto che specificamente qui ci deve essere un posto per la luce superiore e in questa maniera, nella pratica, lo facciamo così come soci ogni volta e pertanto come io scopro il creatore, come lo organizzo, come vedo questa forza che deve fare qui qualcosa, che deve portare a termine qui una certa azione e come mi immagino io che c'è qualcosa che deve fare, in che maniera deve essere dopo che lui già si coinvolge e quindi io elevo questo man e c'è qualcosa lì, come una reshimoto della forma futura che deve essere creata qui, che deve essere completata e quindi il creatore completa con la mia mancanza questa adazione e questo si chiama il nuovo grado spirituale che io ho raggiunto e quindi sempre, ogni volta ci deve essere il lavoro da parte mia nel discernere dove lui manca e in cosa manca e quindi una preghiera, una richiesta, un'elevazione del man e la ricezione della ricompensa che è il prossimo Stato.